A Jesolo da domani alle 5 del mattino inizieranno i lavori di installazione del primo dei due sovrapassi che garantiranno la circolazione dei veicoli anche attraverso il percorso di gara di Iron Man 70.3 Venice e Jesolo consentendo così il passaggio dal Lido verso l'esterno e viceversa. La prima struttura prenderà forma lì dove era stata collocata nelle precedenti due edizioni della manifestazione vale a dire all'incrocio tra via Mameli, via Martin Luther King e via Kennedy. Per il tempo necessario ai lavori, non oltre le 24 di lunedì 1 maggio, la circolazione dei veicoli sulle vie interessate può essere deviata lungo strade alternative con l'imposizione del divieto di sorpasso e del limite massimo di velocità di 30 km all'ora in alcuni tratti. Confermato poi il secondo sovrapasso nella zona est di Jesolo, la struttura sarà installata nell'intersezione esistente tra le vie Martin Luther King, Papa Luciani e Danimarca. In questo caso i lavori di installazione inizieranno alle 5 di martedì 2 maggio e termineranno entro le 24 del giorno successivo. Anche qui la circolazione potrebbe subire delle temporanee modifiche. Entrambi i sovrapassi avranno un'altezza di 4,5 metri per consentire il passaggio anche degli autobus. Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale ha predisposto e consegnato ad abitanti di attività un volantino contenente tutte le informazioni sulle variazioni al traffico per la giornata di domenica 7 maggio in cui si svolgerà il grande evento che quest'anno accoglierà più di 3.000 atleti da ogni angolo del mondo. Oltre a segnalare la presenza dei due sovrapassi, l'opuscolo contiene nel dettaglio l'orario a cui saranno aperti i singoli varchi del percorso di gara bike consentendo così il libero transito. Il 7 maggio si sta avvicinando e siamo orgogliosi che quest'anno calendarizzando l'evento in primavera Jesolo sia finalmente riuscita ad allinearsi alle date internazionali come le altre grandi mete che ospitano Ironman. Ha commentato l'assessore al turismo della città di Jesolo Alberto Maschio. I due sovrapassi, come già hanno dimostrato le precedenti edizioni dell'evento, ci consentono di limitare al minimo i possibili disagi per chi deve entrare e uscire dal lido. Jesolo nel calzino nascondeva la droga arrestato un pusher 34enne. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di più di un etto di Aschis e quattro dosi di cocaina, pronte secondo gli inquirenti, per essere piazzate sul mercato. I carabinieri di Jesolo hanno tratto in arresto nei giorni scorsi un 34enne originario del Gambia e già noto alle forze di polizia. L'operazione è scattata in seguito a un controllo all'interno di un bar di via Aquileia. Il 34enne, alla vista dei militari, è parso nervoso, finendo per attirare l'attenzione dei carabinieri. Il sospetto si è rivelato fondato. Prima di essere perquisito, l'uomo ha cercato goffamente anche di disfarsi di un sacchetto di carta al cui interno i militari hanno poi trovato la droga, un panetto di Aschis e alcune dosi di cocaina. Successivi controlli hanno permesso di appurare come il presunto pusher fosse sottoposto alla misura cautelare di divieto di soggiorno in Veneto, a seguito di un precedente arresto. Per il 34enne è scattato così l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato trattenuto presso la Camera di Sicurezza della Compagnia di San Donà, come disposto dall'autorità giudiziaria di Venezia, che in seguito ha validato invece l'arresto. Il 34enne è stato così associato al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Domenica 23 aprile i carabinieri di Mestre hanno arrestato un presunto responsabile di furti su veicoli. L'uomo, un 28enne di nazionalità marocchina, è stato visto mentre si aggirava in un parcheggio nella zona di San Giuliano. Lo ha notato il guardiano, che ha chiamato subito il 112, permettendo un rapido intervento delle pattuglie. I carabinieri hanno trovato il ladro ancora sul posto e lo hanno bloccato, recuperando l'area furtiva che aveva con sé. Da quanto accertato, il 28enne, irregolare sul territorio nazionale, si è introdotto nel parcheggio, scalvalcando la recinzione. Dopodiché sarebbe riuscito a mettere a segno due furti, uno in un camper, dal quale avrebbe sottratto un tablet, un navigatore e altro materiale, l'altro all'interno di un'automobile, dove invece ha staccato il monitor dell'impianto audio. L'arrivo dei carabinieri ha impedito che la scorribanda proseguisse. Tutta l'area furtiva è stata restituita ai proprietari, mentre l'uomo è finito in arresto con l'accusa di furto aggravato. Il Tribunale ha poi convalidato il provvedimento lunedì mattina, applicandogli il divieto di dimora nel comune di Venezia. Torna a Mirano, l'isola che non c'è, la città si fa bella in primavera grazie al progetto del distretto del commercio, riproposto dopo il successo all'esordio dello scorso anno. E così domenica 30 aprile, dalle ore 9 alle ore 20, sarà una giornata di mercatini, expo, shopping e intrattenimento in piazza, con un occhio anche al passato. Il programma è stato messo a punto in queste settimane dai commercianti e titolari dei pubblici esercizi di Mirano, in collaborazione con il comune Conf Commercio del Miranese, e ne è nata una giornata inedita da non perdere per riscoprire la città, i luoghi, le sue usanze e come queste sono mutate nel tempo. Più di cento gli espositori presenti in piazza, tra negozi a cielo aperto, bancarelle di sapori e tradizioni, angoli di artigianato locale. L'ovale sarà tutto dedicato a una suggestiva rievocazione storica in costumi d'epoca, con dimostrazioni di antichi mestieri in stile medievale e i giochi di una volta. È la Mirano di un tempo che rivive nel cuore pulsante della città, riproponendo le sue radici, in particolare ai più giovani. Ma le curiosità non sono finite, poiché in piazzetta Herrera, attorno alla Fontana, sarà allestita anche un'area interamente dedicata al food, con stand gastronomici, DJ set in stile vintage e l'esposizione delle mitiche Fiat 500. Tornano infine le visite guidate in carrozza, con il tour organizzato tra le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche di Mirano, già proposte con successo lo scorso anno. La compagnia aerea statunitense United Airlines ha ripristinato il collegamento diretto stagionale tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e il suo hub di New York, che sarà operato giornalmente per il periodo estivo fino al 28 ottobre. Il servizio del vettore si unisce ai voli giornalieri diretti esistenti offerti dal vettore da Roma e Milano. Siamo lieti di ripristinare il nostro servizio tra Venezia e New York, ha commentato Walter Cianciusi, Country Sales Manager di United in Italia. Con il ritorno del volo da Venezia i nostri clienti nell'area del Triveneto e oltre avranno la possibilità di raggiungere più di 60 destinazioni in coincidenza verso tutto il continente americano. Siamo impazienti di accogliere nuovamente a bordo i nostri clienti, ha continuato. Per il direttore commerciale di SAVE, Camillo Bossolo, invece la ripresa anticipata ad aprile del collegamento, già riattivato nell'estate del 2022, dimostra come il bacino d'utenza di Venezia sappia generare una domanda sempre più estesa verso gli Stati Uniti. La maggior capacità offerta dall'aeromobile Boeing 777-200R, che per la prima volta opererà la rotta, conferma l'attenzione di United Airlines nell'intercettare le esigenze dei passeggeri e le opportunità di mercato.